e dunque Agraia pezzato l'abbiamo detto pluricampionessa italiana giovanile con primati giovanili nello stile libero e nel dorso ha poi avuto qualche anno di difficoltà in salita per poi riprendersi e tornare più forte di prima andandosi ad affermare in campo assoluto oro europeo con la 4 per 50 stile libero azzurra all'ultima rassegna continentale in Vasca Corta argento ai campionati del mondo di Vasca Corta sempre con la safetta e oro ai campionati del mondo universitari con la staffetta mista non ha avversaria in questa gara il primato del meeting 53 55 38 di Erika Ferraioli andiamo a vedere la situazione poi alle sue spalle Pintar Casarotto intanto la vittoria Aglaia pezzato 54 e 70 e nuovo primato della manifestazione Piazza